Federico Dozzi, Mariangela Marzini, la maestra e coordinatrice, prego, andiamo qua. Mariangela, anche tu una battuta, se vuoi. Mi saluto intanto della nostra presa e della dottoressa Provole, che mi ha appunto voi, anche per rallegrarsi con il buon esito del progetto, che per noi ha rappresentato un'attività molto importante, che è naturalmente quello che ha fatto anche le famiglie e i bambini. E quindi nel feste è stato sicuramente speso anche a molte persone e ai clienti interessanti. Vi ringrazio tanto per fare una bella occasione. Grazie a tutti.